Salve a tutti ragazzi, io sono sempre ErenBlaze e vi do il bentornati alla serie ThePixelMon. Da questa puntata ho inserito la nuova versione della mod, nuova versione che migliora le animazioni di alcuni Pokémon in modelli tridimensionali e che aggiunge anche nuovi Pokémon. Ora siamo oltre i 200 Pokémon complessivi, fra cui ci saranno anche dei Pokémon molto interessanti di terza e di quarta generazione. Ne vorrei catturare uno in particolare che è Iron, no addio come cazzo si chiama? Quello vabbè comunque sia quello che poi evolve in Agron nello stadio finale, mi scappa il nome del primo stadio insomma. Vi faccio vedere soprattutto Charmeleon che ha cambiato di molto il modello poligonale, guardate che bello che è adesso, veramente fantastico ed è anche più grande. Ah, oltretutto notare che ho allenato pesantemente PixelMon, soprattutto Trapinch, scusate Trapinch, che non si è ancora evoluto benché sia a livello 32. E infatti ho cercato su Pokémon Central, ho visto che Trapinch si evolve a livello 35. Quindi ancora a tre livelli si evolverà in un Vibrava e insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Poi che altro fatto? Mi sono messo qui a preparare il crafting di nuove Pokéball e ne ho tenuto un disco da parte da fare durante il video, così per chi non lo sapesse faccio vedere come si martellano i dischi. Questo qui sarebbe quello di una Megaball, quindi clic e col tasto destro ce lo pigliamo. Poi mi prendo qua la pietra che ci servirà per fare i bottoni, quindi la craftiamo, così. Mettiamo i pulsanti al centro, i dischi di sopra e le basi di ferro di sotto e otteniamo 4 Megaball e 5 Pokéball. Quindi adesso siamo messi bene con le Pokéball, questi tre avanzano, va bene così. Ho altra Bauxite da mettere a cuocere, quindi la mettiamo qua. Poi scarichiamo questo qui e devo mettere via i minerali, vale a dire questi qua. Ok, abbiamo fatto le Pokéball. Ora, che dire, vorrei evolvere Charmeleon in Charizard come prima cosa. Quindi usciamo di fuori, intanto magari diamo anche un'occhiata in giro per vedere se becchiamo qualche nuovo Pokémon. Perché è cresciuta una pianta anche qui? Guarda te, non lo sapevo che spawnassero altre piantine vicino. O è cresciuta totalmente a caso, non lo so. Boh. O magari ho cliccato io per sbaglio. Ho cliccato per terra per sbaglio con una bacca e si è piantata, non lo so. Vabbè, comunque sia, guardiamoci un attimo in giro. E io direi di sfidare questo allenatore, che non dovrebbe essere un pescatore, no? Quindi non avrà Pokémon d'acqua. E vorrei far evolvere Charmeleon in Charizard. Quindi, go Charmeleon! I choose you! Allora, Charmeleon usa, facciamo Flame Burst. Come vedete è cambiata un po' la telecamera utilizzata su Trapinch. No, Spearov. Tyler Trapinch. Non ci capisco una sega, mi sta mandando uno Spiro e un Trapinch. Adesso c'è uno Spiro. Ok. Come vedete è cambiata la telecamera della battaglia che ruota attorno ai Pokémon. Però è ancora un po'... Ehm... Singhiozzante, eh. Non mi piace ancora tanto. Esperienza pochissima, ne faccio così. Dovrei cercarmi altri Pokémon potenti per allenarmi. C'è un PG. Sì, sì, vabbè. Così, guarda. Non andiamo da nessuna parte. PG. Facciamoli fuori tutti. Ma sta ancora combattendo contro l'Atata. Non si capisce una sega di queste battaglie, ragazzi. Questo è uno degli aspetti della mod che andrebbero rivisti. Cioè, le battaglie con... Gli allenatori non si capisce proprio nulla. Come avete visto. C'erano i Pokémon in mezzo ai coglioni. Non si capiva chi stavo combattendo. C'era un Rattata, mi diceva Trapin. C'è un macello, insomma. Allora, Milton che è livello 9. Che è che mi sfida? Farfetch è livello 37. Lui sì. Cazzarola, sì, sì. Mi può dare un bel po' di punti esperienza. Attacchiamolo con Fire Fang. Ok, abbiamo fatto fuori il colpo critico. E Cermiglian ha preso un sacco di esperienza. Vediamo se c'è qualcun altro. Tanto prendiamo queste penne che ci serviranno poi. Qua abbiamo un PG. Direi assolutamente che non fa il caso nostro. Magari quel Drosy potrebbe... No, che Drosy? Hypno potrebbe fare il caso nostro. Vediamo a che livello è. Quanto mi devo avvicinare per saperlo? Ah, dai, livello 29. Ci può stare. Sfidiamo lui. Ancora Fire Fang. Che spacca di brutto. Un'altra volta. Colpo critico ancora. Macello di esperienza. Dai, un altro Pokémon così. E abbiamo Charizard. Che cos'è qua? Una pepita d'oro? Piliamola subito. Vediamo. C'è un Nidorina al 24. Magari potrebbe bastare. Sfidiamo Nidorina, dai. No, non l'ho beccato. Riproviamoci. Dai, diamine. Niente, non riesco a prenderlo. Ok, ci siamo contro Nidorina. Proviamo Dragon Rage. Fortissimo. Ci colpisce due volte Nidorina. Fotte Sega. Ok, Charminia al livello 36. Prepariamoci che qua si evolve sicuro in Charizard. Siete pronti? Eccoci qua. Guardate che figa la nuova animazione dell'evoluzione. Con la telecamera che gira attorno al Pokémon che brilla come se fosse nell'anime. E poi addirittura si ingrandisce. Figata assurda. Guardate quanto cazzo è bello Charizard. Mamma mia che bello è. Mamma mia come fiero. Guardate che bello che è. Stupendo. Hanno appena rifatto anche il modello 3D di Charizard, credo. Per cui è veramente spettacolare. Non è più pixeloso tutto questo muso affusolato. Bellissimo. Ritiriamolo e potremmo provarlo contro un malcapitato a caso. Vediamo. Mentre torniamo al centro Pokémon. Vediamo il primo... Oddio sono caduto giù. Il primo Pokémon gli si fa il culo. Vai. Voltorb. È deciso. Contro Voltorb. Se riesco a prenderlo. Mannaggia. Anche sta cosa che devi tirare le Pokéball addosso ai Pokémon selvatici per sfidarli mi fa girare le scatole ragazzi. Oh finalmente è una volta su tre li becco. Ma sì ma anche un bracere che tanto gli fa il culo subito. Guardate che bestia. One shotato di brutto. Povero Voltorb era a livello 11 fra l'altro. Mela meno che era scarsissimo. Poverino. Dai dirigiamoci verso il centro Poké. Prima voglio prendere questa bacchettina qua. Già che ci siamo. E mi piacerebbe tanto trovare appunto quel Pokémon che dicevo. Non mi viene il nome cazzarola. Quello che si evolve in Agron. Che cos'è sta merda qua? Oddio. King? Kings? Che cazzo è? Oddio non so cosa sia. È un allenatore forse. Boh io li mando addosso Charizard a caso. Mi sa che è un allenatore straforte tipo. Beh certo che è forte a livello 29 Spiro però minchia è uno Spiro. Cosa vuoi che faccia? No Wartoltol. Wartoltol. Cazzarola mi può fare il culo. Usa Dragon Rage. Che se no non ce la caviamo più. Charizard è confuso. E... Wartoltol è stato... È stato abbattuto e l'ha mandato fuori un altro. Non si capisce una sega neanche stavolta ragazzi. Veramente terribile ste lotte. Ivysaur. Pure un Ivysaur. Vabbè lui facile. Bracere lo facciamo subito fuori. Dai muoviamoci che tanto non si capisce una sega. Ahimè è il brutto di questa mod. Ok l'abbiamo battuto. Era un allenatore a quanto pare. La texture era veramente terribile. Sembrava un Enderman dei poveri. E niente. Allora ce ne torniamo un'altra volta. Sono caduto. Mannaggia. A me. Ce ne torniamo nel Poké Center. Eccoci qui. Io mangio. E... Cosa si può fare? Avevo intenzione di fare due cose. Allora prima vado a dormire però. Così torna il giorno. Volevo craftare le scarpe da corsa e la canna. La canna da pesca. Perché vorrei anche cercarmi un Magikarp. Se possibile un Geridos. Quindi un Magikarp bello potente di gioco la canna da pesca. E... Perché voglio sostituire Poliwhirl. Perché mi sono ricordato che si evolve. No si evolve tramite scambio. No è una cazzata. Non si evolve tramite scambio Poliwhirl. Oddio non mi ricordo più ragazzi. Vabbè comunque sia voglio avere un fottuto Geridos. L'ho visto in un video ed è veramente stupendo. Quindi... Cerchiamo di craftarci sta canna da pesca. Che mi piglio un bel Geridos. E... Allora avremo bisogno... Non delle canne da pesca normali. Avremo bisogno di... Bastoncini. Una cordicella. E una Poké Ball. Quindi ci mettiamo nella crafting table. E si fa così. No oddio. Si fa così. Quindi come la canna da pesca. Una cordicella. E una Poké Ball alla fine. E otteniamo la canna da pesca vecchia. Ora non so come si fa... Superamo ste cose qui. So fare questa e basta per adesso. Poi al massimo mi informerò. E più avanti ne faremo una più bella. Non lo so. Mentre per le scarpe da corsa... Ho bisogno della pelle. La pelle... Ce l'ho. Ce l'ho però non mi basta. Allora la pelle la ottengo credo sconfiggendo i Miltank. Che sarebbero come le mucche no? Quindi cerchiamoci... Minchia Kangaskhan. Quanto è grosso. Che livello è? 33. Vabbè lasciamo stare. Cerchiamoci... Una... Un Miltank. Così al volo. Cazzarola ovviamente non ce ne sono più. Perché quando... Non li cerchi... Sono sempre in giro a romperti le palle. Quando li cerchi... Logicamente non ne trovi neanche mezzo. Pertanto... Boh... Non so dove trovarlo. Facciamo che lo cerco... E... Ricomincio il video quando... Ho trovato... Il Miltank più che altro. Quando ho ottenuto la pelle. Ok ragazzi. Ho battuto Miltank che mi ha droppato due pezzi di pelle. Quindi... Oddio c'è... Uno Snorlax gigantesco. Che livello è? Non lo so. Quasi quasi me lo catturerei uno Snorlax. Che ne dite? Ma andiamo... Trapinch. Vai Trapinch contro Snorlax. Incredibile. Proprio... A pari livello. Povero Trapinch. E li tira una pedata lo spiaccica. No l'ha spiaccicato veramente oltretutto. Gli è saltato addosso tipo. Vabbè. Usa Bulldogs. Non so neanche che cos'è. Critical Hit. Grandissimo Trapinch. Vai un altro. No. L'hai battuto. Minchia. Che bestia sei. Trapinch l'ha battuto. Vabbè. Lo volevo catturare. E... Le ha fatto due colpi critici. E l'ha battuto. Vabbè. Eh... Sarà per il prossimo Snorlax. Allora. Dicevo. Sono riuscito a ricavare questa pelle. Quindi. Allora. Qua ne avevo tre pezzi. Facciamo così. Facciamo così. Poi mi serve il ferro e le penne. Che ce le ho già. Mi servirà anche il diamante. Allora. Andiamo alla crafting table. Si fa prima di tutto lo stivale di pelle. Quindi c'è di cuoio. Quindi così. Poi. Questo stivale di cuoio si crafta con quattro pezze di ferro e due piume. E si ottengono le scarpe da corsa vecchie. Queste scarpe da corsa le mettiamo sempre nella crafting con due diamanti questa volta. Due di ferro e ancora due piume. E otteniamo le scarpe da corsa nuove. E ci daranno più 75 di velocità. Minchia bestiale. Quindi. Allora. Mettiamo via i nostri minerali. Mettiamo via anche... No. La pelle l'ho usata. Quindi non c'è più. Proviamole a sto punto. Oddio. Si è anche spostata la grafica. Guardate. Così è normale. Con le scarpe da corsa diventa così. Straveloce sono. Mamma mia. Guardate un po'. Usa in bolt in minecraft. Bellissimo così. Andremo in giro straveloci. E... Allora. Come ultima cosa. A questo punto utilizziamo il lamo da pesca. Se... Oh giraffaring. Non l'avevo ancora visto. Se ve lo state chiedendo. Lo so che i Magikarp si trovano anche in giro così in natura. Perché hanno visti a bizzeffe. Però mi va di pescarne uno. Non lo so. Mi ispira di più così. Quindi proviamo con questa canna da pesca. Non ho la più palida idea di come funzioni. Suppongo allo stesso modo, no? È venuto su un gold in. Proviamo a ritirarlo. Niente. Mi dice. Forse devo fare così in continuazione. Non lo so. Fra l'altro guardate quanto cazzo è buggata sta canna da pesca. Che fa così. Fa venire il mal di mare. Oh, ho trovato qualcosa. Magikarp a livello 8. Va che bello. Che cos'è? Che cazzo di grafica è? C'è la bedrock? Oh mio dio. Macello sta facendo. Proviamolo a catturarlo direttamente. Perché se no se lo attacco lo ammazzo sicuro. Ma penso che lo prenderò sicuramente. A parte che è scomparso. Ancora una volta la grafica delle lotte fa un po' pietà. E non sono riuscito a catturarlo. Madonna. Sei solo un brutto Magikarp e non ti fai catturare. Riproviamoci. Con la Great Ball stavolta. No. Niente. Oddio. Quanto cazzo sei forte Magikarp? Non ti fai catturare. Se non va neanche questa mi sa che lo ammazzo perché mi stanno girando i coglioni. Ci ho messo un'eternità a craftare le Pokéball e poi ne spreco 3 contro Magikarp. Oh, ce l'ho fatta. Bravo Magikarp che ti sei fatto catturare. Perché alla prossima saresti morto sicuramente. Allora, visto che abbiamo catturato un Magikarp. Direi che poi questo lo allenerò e voglio ottenere un Geridos, chiaramente. Mentre Poliwhirl ci saluta a questo punto perché voglio un Pokémon d'acqua solo. Quindi mettiamolo nel PC. Semplicemente credo così. Non l'ho mai usato il PC. Sì, tutto qui. Perfetto. Quindi, quanti box ci sono? 8. Non è male. 6 per 5, 30, 30 per 8. Non ho voglia di fare i conti però ci stanno un bel po' di Pokémon. Quindi abbiamo il nostro Magikarp. Sono curiosissimo di farlo uscire dalla Pokéball. Eccolo qua. Che tipo sta morendo. Guardatelo che brutto. Così, muore sul pavimento. E vabbè, dai. Chiudiamo con questa immagine pietosa. Io mi metto tipo davanti a Magikarp. Così. Il mio nuovissimo Pokémon. Altro che Chizard, ragazzi. Quindi, detta questa stronzata incredibile. Vi disiscriverete tutti quanti. Lo so di già. Però, vabbè. Dove cazzo va? Cosa sta facendo? Oddio. È posseduto. È pazzo. Come fai a nuotare nel vuoto? Ma poi chiudi sta bocca. Sembra che vuoi farmi un fellatio. Fra l'altro, questa canna da pesca è abbastanza ambigua. Se si fa una cosa tipo... Così. Oddio, non riesco ad avvicinarmi. Vabbè, avete capito cosa stavo per fare. È una cosa abbastanza ambigua, comunque. Lasciamo stare queste cazzate. Non so neanche se le dovrei tagliare dal video, tenerle. Niente, direi che ci vediamo per la prossima puntata. E da questa puntata stupidissima è tutto. Un saluto ad Iron Blaze e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.